di Etemai e arriva il gol arriva il gol secco, brutale, immediato Maxi Lopez, l'avevamo detto forse deve preoccuparsi un pochettino più di se stesso e del suo ruolo oltre che fare l'uomo sponda e Lopez corona una performance fino ad ora importante, sorride il presidente lui vede la porta c'è la misura intensa è tutto preciso, trepitoso traversa il rete grande Maxi Lopez in qualche modo, intanto è curioso perché vogliamo vedere dal replay che cosa è successo dopo il gol perché c'è un giocatore del Catania che è rimasto a terra in questo momento attenzione, ancora Antenucci potrebbe passare a Lopez lo fa, e Maxi Lopez mette dentro con precisione millimetrica in sinistro, piatto bravo devo dire Antenucci che ha resistito la tentazione della conclusione personale ha trovato il momento giusto per il passaggio per l'assist vincente Lopez e ovviamente adesso è tutto facile vince questo rimpallo Antenucci vede Maxi Lopez libero aspetta un pochino sinistro chirurgico davvero di Maxi Lopez sul palo lontano e non c'è niente da fare devo dire che Antenucci è stato bravo perché probabilmente avrebbe avuto più facilità lui ad andare a rete di quanto non ne abbia avuta Lopez che ha davvero incontro